29 giugno 1986 l'Argentina vince il campionato mondiale di calcio Messico 86 battendo in finale la Germania Ovest per 3 a 2 una partita che consacra ancora una volta Diego Armando Maradona come il calciatore più forte al mondo al 32esimo minuto è il difensore argentino Brown a realizzare la prima rete il raddoppio ad opera di Valdano giunge al 56esimo fulminea la reazione dei tedeschi che accorciano le distanze con Rummenigge al 73esimo e poi pareggiano all'82esimo con Föller quando si pensa ormai che la partita sia destinata ai tempi supplementari Maradona con un passaggio acrobatico serve la palla a Burruciaga che trafigge con freddezza il portiere avversario è l'ottantottesimo minuto l'Argentina è campione del mondo